Adesso Questa qua è il trailer Della Evil 6 Ha! Mi montano un danne Ha uno di vita Mi pare anche di fare quello che avevo diviso Ora muore O ducchi altri Perchè c'è quella di Ah, ok Ma perchè manchi questo attivo? Vabbè Vai mia Ossolo Poverino Bananita è morta raga Ok Ok Un'altra No Vabbè Dai 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 Porca miseria Un meteorite Raga Io il trailer che ero su switch L'ho schippato Per fare questo Incredibile Ha funzionato davvero Oddio Ora esce qualcuno sicuro Chi esce oltre? Ad alien Che cosa c'era poi? Predator Perché Dai sette? Hai caduto prima Senti So che non hai motivo di fidarti di me Ma Aspetta Ha uno di vita Ha uno di vita Ha uno di... Morto Morto Non è morto Geno Posso portarti Geno E le sorelle? Posso portarti tutti Ma dovrai aiutarmi a riparare qualcosa Al fare fatto Per ora Per ora Mettiamoci al lavoro Ok mettiamoci al lavoro Raga 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 Avete visto? No Dovete aver visto Dai raga È il nostro biglietto verso casa Non farmene pentire Raga Ma se sono i... Lascia stare Datti una svegliata Stiamo salvando la realtà Di nuovo tu vuol dire che sono te Certo Cosa hai fatto al punto zero? Oddio Non è colpa mia C'è stato un... Un accidente È tutto ingarbogliato Non so se posso aggiustarlo Non ci arrenderemo Perché ha parlato di arrendersi? Aspetta Quando il punto zero inizierà a crescere Non si potrà tornare indietro Oh no Ok Oh Oh no Ci sono dei portali Non va bene Ma come non va bene? La realtà sta andando in pezzi No 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 Non è quello di sentire la porta È fatta Ma non ho armi Vai chiudi Devo Io guardo Non faccio niente Ora l'instabilità possono peggiorare Attenzione alle ondate di realtà Non ci sono le ondate di di che cosa? Di realtà Sono una farfalla Quella era grossa Tutto bene raggiù Ora sono una farfalla quindi No! Ok Che cosa devo fare io? Direi che tocca a te Sarai i miei occhi e orecchie E braccia Sì Dovrai chiudere quei portali Ci riuscirai? No, non ci credo 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 Che sia un buon segno Ma è bellissimo Ottimo lavoro Ma mi servirà più tempo Lo prepari? Ricevuto Vedo altri tre portali Ma il prossimo è molto lontano Si sta più stan raga Se solo potessimo Oh, 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 oh Posso se le trasportarmi? Giù! Giù! Ok, vado giù Sono un pollo Che cosa? Come l'ho detto? È la scheda del postpartale Ma sono tutte le schede del postpartale Che abbiamo visto nello scorso video Non ci credo Ho costato la mina a studiare il punto zero Dobbiamo essere più veloci Oddio Non posso continuare per sempre Resisti! Stiamo andando verso il terzo portale Dove cacchio è il terzo portale per capire? È lì No! Oh no, 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 no Lupi Signori È solo una novità, eh? Porca miseria Le realtà alternative si fanno strada Meglio se ci muoviamo Ah, è vero Ok Quindi i lupi sono scappati Perché hanno paura del pollo Oh, data! Pensa pensieri umani Pensa pensieri umani Pensa pensieri umani Ecco E adesso che cos'è? Una donna solo Credo che la realtà ce l'abbia con me Credo che la realtà ce l'abbia con me Stai benissimo Pidona No, basta scherzando Come va lassù? Eh? Troppo Dovete procedere Ne manca uno solo Resisti Dov'è questo uno solo? Ok Abbiamo Sono trovato gli elicotteri! Ah! 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 Ahia! Dove ho sparato? Devo prendere il portale? Devo prendere il portale? Sì, signore Mi sono buggato L'ho chiuso! Ragazzi, l'ho chiuso L'ho chiuso L'ho chiuso L'ultimo Credo che ci siamo Si è aggiustato il punto Z Che roba Ok, il prossimo lancio è il fondamentale Oh no Non si è aggiustato Ehi, tutto bene? Come l'ho detto? Non basta Non riesco a caparlo Ma forse posso contenere l'esplosione Ma è la torre che c'è nel gioco Non devi farlo Ce ne andremo solo quando avremo finito L'abrisorso del nostro ha giusto forza Ok Andiamo Dall'altro Oddio Ah! No! Che musica inquietante Non è per niente il cicatino Ho detto a caso Raga! Ah, la faccia tua Ora salgo Peccato che in gioco Non si può volare Certo Certo Sto volando Dai! Ancora un po' No! Uh! Menomale che ero sotto la scala raga No! Mi sono buggato Forza! Dai! Oh! 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 Raga raga! 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 Oh! 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 No! Devo andare! Devo proteggerlo! Oddio! Ok! Bene! Direi che Ho finito molto male Io pensavo che era tutto ok Vabbè raga Abbiamo visto Abbiamo visto Non l'avevo ancora ancora visto raga Quindi Stai sicuri che Che non me lo sono spoilerato L'avevo visto in altri video quindi Guazzo Mi ha inventato Frenchy Ci vediamo al prossimo video ragazzi E Ciao!